ah beh riprendiamo a parlare di brandon curry che nonostante l'avessimo dato per morto a ripresa pubblicare aggiornamenti o lui o il suo coach questo è un altro aggiornamento che ha pubblicato il suo coach non mi voglio ripetere perché dico sempre le stesse cose lo sapete benissimo però è la verità bodybuilder che purtroppo ha avuto la sfortuna di non avere la genetica per le gambe e nemmeno per essere molto definito avrebbe potuto fare sicuramente molto molto di più questa most muscular è fantastica io davvero non so cosa aspettare per questo mister olimpia io penso che saremo ancora alle prese con un brandon curry ai piani alti con ciò non dico quinto posto primo posto cioè a ridosso delle prime cinque posizioni mettiamola così questo è un video che abbiamo visto qualche giorno fa anche perché per sua stessa ammissione piace molto a steve weinberger l'ha detto lui l'anno scorso se non sbaglio dicendo che stava per dare il titolo del mister olimpia 2021 a brandon se non poi decidere per big rami il grande rami che quest'anno non gareggerà al mister olimpia quindi brandon dalla parte sua ha i favori steve weinberger capo giuria della ifpb e del mister olimpia una parte alta estremamente nobile è il blasone di essere un ex mister olimpia che non sono poco questi tre fattori nonostante le gambe così così è la definizione lo stesso così così quindi per tutta questa serie di fattori io penso che possiamo ancora ritrovarcelo molto vicino alle prime posizioni di sicuro non primo di sicuro non secondo ma nemmeno terzo però secondo me potrebbe anche essere un quarto posto un quinto posto non lo so bisognerà vedere cosa combineranno gli altri che stanno vicini alla terza posizione quindi spero di non essermi ripetuto troppo su brandon questa volta ho aggiunto qualche elemento che in genere non dico però gli aggiornamenti sono anche ripetitivi passando a qualcuno di cui non parlo da un po di tempo grizzo ha pubblicato questo aggiornamento che in realtà è una storia fatta a boomerang dove si tira la pellaccia che ha vicino alla vita per far vedere immagino che è molto definito e lui è effettivamente molto definito è un bodybuilder quando gareggia non ha problemi a definirsi e la cosa secondo me interessante di creizzo è che ha delle rotondità che raramente vediamo nei bodybuilder bianchi cioè davvero delle rotondità una densità un effetto 3d a livello soprattutto di braccia spalle e pettorali che non vediamo spesso in bodybuilder bianchi anzi praticamente mai io credo che quest'anno farà un passo avanti nelle gerarchie se porta una buona definizione e un buon posing per la definizione sono abbastanza sicuro che la porterà per il posing magari un po meno perché deve sicuramente lavorarci su però ha vinto l'empro classic qualche mese fa a discapito del povero andrea presti con una prestazione estremamente nobile è estremamente convincente io come ho detto altre volte più passa il tempo più mi piace credo inizialmente è un po scettico però invece vedendolo gareggiare mi piace deve giusto portare un posing migliore però poi a secondo me anche lui qualche pecca genetica che non può ovviare e parlo soprattutto dei glutei che sono troppo troppo piccoli nonostante lui fosse stato un po critico nei confronti di chi l'avesse criticato per i glutei i bodybuilding e proporzioni e i glutei sono un muscolo e quindi c'è anche glutei devono essere proporzionati al resto del corpo vedete quanto sono piccolini un po troppo deve migliorare anche un po i dorsali l'apertura dei dorsali è un po la schiena che un po disordinata è un po un casino la schiena secondo me nel back double bicep nell'asperd è un po meglio anche se non appare larga come dovrebbe essere la schiena di bodybuilder così grosso però vedremo che farà crizzo passando a william bonac qui vedete con uno dei suoi pargoli ha pubblicato un post qualche giorno fa dicendo che sta valutando l'ipotesi del ritiro non ve lo traduco parola per parola però lo traduco a grandi linee quindi dice è stato difficile per me passare da gareggiare ai livelli più alti a una vita normale come un uomo di famiglia però da quando a marzo ho fatto l'anno classic ho battagliato con i miei pensieri se continuare e cercare qualificare mister olimpia o prendere un po di tempo libero off nel senso off da tutto dal bodybuilding dalla prep eccetera eccetera e vedere come vanno le cose l'anno prossimo o ritirarmi completamente e cercare un altro obiettivo nella vita poi prosegue non mi sono mai sentito così bene in decenni quindi niente cambi di umore niente mangiare in maniera forzata sei pasti con meno sonno per mangiare l'ultimo pasto tardi si intende traducendo in maniera molto molto libera mettiamola così quindi niente cardio finché non stai quasi per svenire basta viaggiare con i miei pasti basta sostanze tossiche penso che si riferisca specialmente al zinco e magnesio e omega 3 basta fare allenamenti esausto basta respirare maniera affannosa quando faccio le scale o quando cammino bla bla e però dice però mi sento comunque incompleto perché qualcosa manca e intende chiaramente l'aspetto competitivo del bodybuilding nonostante sia meglio con tutte queste cose che mancano nella sua vita le cose negative diciamo quindi vedermi più piccolo non è un problema però non mi piace sapere che non sarò sul palco del mister olimpia quest'anno blablabla poi dice che il bodybuilding e la sua vita e la sua passione e tutto quello che conosce e l'ha salvato da una vita in in strada che non risparmia tante altre persone quindi tutto quello che ho e grazie al bodybuilding e la ipv e tornerò questo è certo però ai miei termini alle mie condizioni quindi vedremo se effettivamente bonac tornerà è uno dei modi builder preferiti degli ultimi anni l'ho detto molte volte però chiaramente bisogna anche fare delle scelte nella vita adesso ha dei figli se non sbaglio gli è nato anche uno da poco sta meglio non è più competitivo come prima è stato superato da tanti altri bodybuilder nuovi emergenti quindi non penso che gli converrebbe continuare a gareggiare martoriarsi star male come dice che effettivamente sta quando fa le prep quindi io non penso che lo rivedremo se non per un canto del cigno per per i fan quindi vedremo un po comunque fatemi sapere che ne pensate di questo possibile ritiro di william bonac che ne pensate di william bonac a me piace tantissimo però sono onesto ormai è stato declassato e non tornerà mai più a certi livelli la sua migliore posizione è stata terzo l'olimpia 2019 poi è andato via peggiorando all'olimpia si intende perché poi ha rivinto l'arno classic quindi non è di sicuro un bodybuilder finito però all'olimpia non lo vedo più ad alti livelli buona non lo vedo più ad alti livelli